Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda conferenza stampa di presentazione odierna perché domani è un giorno importante non solo per la prima squadra ma anche per la formazione primavera. Qui abbiamo il responsabile del settore giovanile Angelo Trevisan e il nuovo mister Filippo Cristante. Domani i ragazzi bianconeri esordiranno alle ore 15 a Manzano contro Cittadella, partita che OD News TV trasmetterà in diretta. Quest'oggi dunque vedete anche tre modelli di eccezione rappresentanti del settore giovanile e anche della primavera con Francesco Mazzolo indossare quelle che sono le maglie per la stagione 2019-2020. Maglie che per tutto il settore giovanile hanno anche una novità. Prima di lasciare spazio alle vostre domande per Angelo Trevisan e per mister Cristante è doveroso ricordare partendo dalla formazione primavera che per il secondo anno consecutivo Dinamica Amico sponsorizza come main sponsor la formazione primavera e c'è anche Vortice esattamente come accade per la prima squadra come co-sponsor. A tal proposito ci tengo ad accogliere e dare benvenuto a Benedetta Terraneo che è responsabile marketing di Dinamica Amico per rivolgere a voi tutti un saluto. Prego Benedetta. Grazie a tutti. Buongiorno, sono veramente felice di essere qua per il secondo anno a salutarvi a dare un in bocca al lupo ai ragazzi, alla società e per l'inizio di questo campionato domani si parte quindi un caloroso in bocca al lupo da parte mia e dell'azienda che rappresento. Mi ricordo che l'altro anno avevo detto di giocare con il miglior calcio che avevate nelle gambe la stagione è andata un po' così quindi continuate a giocare con il migliore calcio che avete nelle gambe continuate a metterci la passione perché comunque voi rappresentate una società che è un'eccellenza siete dei ragazzi veramente fortunati secondo me a poter dimostrare e a poter capire se questa sarà poi la vostra strada che vorrete fare per il vostro futuro. Questo però è solamente il punto di partenza quindi avete una strada ancora lunga tante cose da dover dimostrare però fatelo col cuore perché i risultati vengono probabilmente solo così quando vengono veramente da dentro. Ringrazio tutti e avrò occasione di vedervi sicuramente, vedere qualche partita e quindi fate del vostro meglio. Grazie, grazie mille a dottoressa Benedetta Terranio. È un momento però importante come dicevo perché due dei nostri tre modelli indossano una maglia che ha uno sponsor diverso rispetto a quello della primavera che è Goccia di Carnia. Goccia di Carnia ha avviato quest'anno una partnership per questa stagione con Udinese Calcio ed è l'acqua ufficiale della prima squadra dell'Udinese Calcio e non solo perché sponsorizza tutte le formazioni del nostro settore giovanile sia quello maschile che quello femminile come potete vedere anche dalle maglie che indossano i nostri ragazzi. Da parte di Udinese va anche un ringraziamento a Goccia di Carnia che è presente anche quest'oggi alla conferenza stampa, al dottor Samuele Pontisso, l'apsus calcistico amministratore delegato di Goccia di Carnia e naturalmente anche il più caloroso benvenuto nella famiglia Udinese che rappresentate e come acqua ufficiale dell'Udinese Calcio della prima squadra e come sponsor di tutte le formazioni del settore giovanile. Come detto è il momento però anche di lasciare la parola ai protagonisti della formazione primavera del nostro settore giovanile perché abbiamo il responsabile Angelo Trevisan e il mister Filippo Cristante. Io inizierei lasciando la parola ad Angelo per un saluto introduttivo. Grazie, buongiorno a tutti. È doveroso ringraziare i nostri sponsor perché senza i nostri sponsor andremo non tanto lontano. Ringrazio Dinamica che è già il secondo anno che sta con noi, che ci è stata vicino. La dottoressa è stata anche gentile nei momenti difficili ma noi quest'anno vorremmo, insieme all'allenatore vorremmo ma dobbiamo farcela a ripagare la fiducia dataci e le delusioni che abbiamo avuto l'anno scorso quest'anno speriamo di tramuntarle in grosse soddisfazioni. Anche se come la proprietà ci chiede il nostro scopo è quello di formare calciatori. Poi se vinciamo bene, se non vinciamo va bene ugualmente però il fine nostro è quello di crescere, di vedere esordire qualcuno in prima squadra. Questo è il nostro scopo. E do un benvenuto a Gocia di Carnia. Tutto il nostro settore giovanile parte la prima squadra e ci fa piacere anche questo connubio. Siamo contenti. Dove loro hanno la loro sede noi veniamo spesso nei ritiri estivi, perciò ci stiamo proprio vicini e mi auguro che sia una partner in duratura, lunga nel tempo, così speriamo di crescere come abbiamo iniziato questo percorso e sono molto contento di come è iniziato questo primo mese calcistico. Grazie mille Angelo. Lasciamo anche spazio al mister Cristante per dare un suo benvenuto a voi tutti, visto che è la prima volta che avete occasione di incontrarlo nell'ambito di una conferenza stampa e poi naturalmente vi lasceremo sia Angelo che il mister alle vostre domande. Prego mister. Un ringraziamento da parte mia e va alla società perché quando ho avuto la possibilità di avere i primi colloqui mi ha posto davanti un progetto importante che è quello di lavorare col territorio e quindi lavorare con dei giovani. Teniamo considerazione che noi abbiamo un gruppo, il 90% circa di ragazzi che hanno fatto il percorso a Udine e sono quasi tutti del territorio. Quindi questo penso che sia una cosa buona e fa piacere anche che ci siano aziende che credano nel calcio, che investano nel calcio soprattutto nel calcio dei giovani perché prima di arrivare al calcio dei grandi secondo me l'aspetto importante è dar fiducia e dare possibilità a dei ragazzi che stiano in ambienti sani e in ambienti dove l'aspetto sportivo arriva in primis ma l'aspetto di crescita personale diventa molto importante. Ecco quindi questo ringrazio tutti. Come promesso spazio alle vostre domande. La prima per il Gazzettino. Volevo fare una domanda sia al responsabile del settore giovanile Travis anche al nuovo allenatore della primavera. Lo scorso anno è stata un'annata disgraziata. Adesso è inutile tirar fuori le cause perché il passato la lasciamo stare. Però c'è una cosa che mi ha colpito. Nelle recenti amichevoli della prima squadra l'allenatore ha chiamato molti numerosi elementi della primavera. Quindi vuol dire che c'è qualcosa alle spalle. Quest'anno l'Udinese potrebbe divertire. Ci potrebbero essere degli elementi che potrebbero chissà un domani anche giocare in prima squadra. Questo per noi è un punto di partenza, non di arrivo perché come dicevo prima anche se le cose sono andate male il nostro lavoro è quello di costruire tra parentesi professionisti, calciatori. Quest'anno abbiamo proprio qui uno degli artefici. Cinque ragazzi della primavera sono stati costantemente in ritiro con la prima squadra. Qui è rappresentato Mazzalo che il mister l'ha impiegato anche nell'ultima amichevole che è stata fatta in casa. Adesso sistematicamente ogni giorno c'è qualcuno che si allena con la prima squadra e magari chissà che domani qualcun altro verrà convocato per la trasferta di Milano. Noi lavoriamo per questo. Poi le annate, come dicevi, non tutte nascono per il verso giusto. L'anno scorso è stata un'annata, la colpa è di tutti quando le cose non vanno bene, certamente mia per primo che sono responsabile. Però la società ci è stata vicino anche in momenti difficili. Questa è una società, secondo me, io sono 12 anni che lavoro all'Udinese, in un'unità che in momenti difficili tira fuori meglio di se stesso. Quando le cose vanno bene magari qualche tiratina d'orecchio, ma quando le cose vanno male ci sta sempre vicino e ci dà la forza di andare avanti e credo che sia un vanto per la proprietà comportarsi in questo modo. Perciò adesso siamo ripartiti con tanta buona volontà e tanta forza e oltre a cercare di fare il meglio possibile nel campionato primavera ma anche negli altri campionati, il nostro scopo è quello di sperare che qualcuno giochi in prima squadra. Questo è lo scopo principale. La domanda mia era questa. Il fatto che quest'anno da subito in prima squadra ci siano elementi della primavera significa che la società e la prima squadra, nel caso specifico Tudor, guardano in maniera particolare al vivaio. Al di là della bravura o meno, ma in passato non succedeva così frequentemente. Sin dal primo giorno di ritiro si è dato uno sguardo particolare, la giusta attenzione, direi, ai giovani. Sì, come ripeto, l'allenatore li conosceva già dall'anno scorso, ma probabilmente questo è stato un po' avvantaggiato. Gli ultimi sei mesi che è stato con noi li ha visti allenarsi spesso e volentieri con loro e questo l'ha un po' agevolato. Con la storia che li porta sistematicamente, come ho già detto un attimo fa, spesso con loro, vuol dire che ci crede e mi auguro che si prosegui per questa strada. E perciò, come ripeto, l'ennesima volta, anche se le cose sono andate male, vuol dire però che qualche giocatore importante l'avevamo nel gruppo. Posso dire, senza essere smentito, che quasi tutti i ragazzi del 2001 sono stati richiesti da società importanti e noi naturalmente ci siamo tenuti ben stretti. Una domanda al mister. Innanzitutto benvenuto, Pippo. Mi prometto di darti del tu perché c'è una lunghissima amicizia e stima che ci lega da tantissimi anni. Hai fatto un percorso importante, secondo me, anche da allenatore, oltre a quello da calciatore che tutti conosciamo. Sei arrivato adesso in una società davvero importante. Qual è il tuo focus, qual è il tuo obiettivo per quest'anno, anche tuo personale, oltre che per la squadra, chiaramente? Certamente penso che l'obiettivo del individuale sia condiviso con quello dei ragazzi del gruppo. Penso che il fatto di essere partito dopo cinque anni a Pordenone per essere partito qui il 22 di luglio, anzi, col direttore ci siamo trovati ben prima con diversi colloqui, è uno stimolo importante a livello personale. Ma penso che gli obiettivi debbano essere costruiti sia personali che di gruppo debbano essere condivisi. e quindi questo è un aspetto importante. Certo, fino adesso ho sentito parlare molto della stagione passata, io riporto le parole che ho detto ai ragazzi del primo giorno. Abbiamo un foglio bianco, aspetta a noi scriverlo. Il foglio scritto lo scorso anno a noi e al gruppo interessa poco. Noi abbiamo questo foglio, aspetta a noi lavorare come stiamo facendo, iniziare la stagione con dei presupposti buoni, sapendo che c'era una stagione dura, tosta, ma sapendo che l'aspetto caratteriale deve arrivare in primis, oltre ai aspetti tattici e tecnici. L'aspetto emotivo dentro deve essere, deve arrivare prima di tutto. E questo secondo me è anche un obiettivo personale, riuscire insieme al gruppo a dar sì, a far sì che questo gruppo rappresenti questa società. Altre domande? Messaggero Veneto. Volevo chiedere a Trevisan, prima lei ha detto che quando si vince bene, quando si perde va bene uguale, diciamo va meno bene quando si perde, forse correggiamo un po'. È vero che siamo a livello di settore giovanile, in una società professionistica forse? O sbaglio? No, certamente quando si perde non va bene, però come ripeto il nostro credo è quello di costruire, si costruisce giocando, cercando di giocare bene, e anche se magari tante volte lasciar perdere il risultato e cercare di fare qualche giocato importante, perché a me hanno sempre insegnato che durante gli allenamenti si può esagerare magari nel dribbling o in qualcos'altro, e magari io credo che i campionati nostri giovanili si deve esagerare, un ragazzo non deve essere vincolato dal risultato, io lo penso veramente, anche se si perde è certo che dispiace, io stiamo male quando le cose non vanno bene, però tante volte una o due sconfitte fanno meglio che una vittoria per la crescita di un ragazzo, io intendo sotto questo punto di vista, certamente che perdere non fa piacere a nessuno e non va bene, però ogni tanto io credo che quando le cose non vanno bene si esaltano più i difetti quando le cose vanno bene i difetti si coprono invece nel mio lavoro nel nostro lavoro dobbiamo cercare di migliorare più si scopre si scoprono le magagne meglio è per cercare di lavorare per migliorare ecco in questo verso intendevo dire va bene anche le sconfitte non vanno mai bene le sconfitte Tutto Dinese Buongiorno una domanda alla direttora è importante comunque la scelta di valorizzare i ragazzi del territorio perché sempre di più si vede anche nel settore giovanile nel primavera e nelle altre squadre che c'è il 70% di stranieri quindi questo può essere un buon punto di ripartenza e un'ultima cosa poi al mister sarà anche il campionato del derby col Pordenone può essere insomma importante ecco uno stimolo in più tutto qua Allora la domanda che è stata rivolta a me io non solo la squadra sarà anche allenatore del territorio perché il nostro mister è nato a Casarsa noi vogliamo vogliamo la proprietà noi come società vogliamo far crescere il territorio e voglio ricordare perché insomma poi i fatti sono quelli che contano l'anno scorso Udinese Juventus a Manzano in campo dal primo minuto c'erano 10 ragazzi cresciuti nel settore giovane nostro ma non cresciuti dalle anni 17 cresciuti dai pulcini e dagli esordienti dal numero 1 al numero 11 c'erano 10 a parte Kubala che l'abbiamo preso due anni fa gli altri 10 giocatori che erano in campo da tutti i friulani cresciuti dagli esordienti dai pulcini lo ripeto perché tante volte l'Udinese non interessa non è così non è proprio così l'anno scorso e quest'anno noi abbiamo tenuto qualche ragazzo da fuori in convitto abbiamo solo 5 ragazzi in tutto il nostro settore giovanile e abbiamo più di 200 ragazzi sono tutti friulani ecco quest'anno sono arrivati 50 ragazzi nuovi dal territorio perciò non abbiamo preso nessun ragazzo da fuori regione noi ci teniamo molto e cerchiamo di come ho detto prima di esaltare il nostro territorio perché non è giusto che qualche ragazzo dalle parti nostre vada a trovare a trovare fortuna dalle altre parti dove c'è una squadra di serie A da 30-40 km 50 da casa e questo noi dobbiamo lavorare per farli stare bene nel nostro territorio e nella nostra società prego mister certamente fa piacere trovare il Pordenone che sta lavorando bene e trovarlo in questo campionato primavera ma il nostro focus deve essere sulle 24 partite che ci aspettano e sugli eventuali play-off questo deve essere il nostro focus non soffermarci su una partita su due partite su tre partite è quello di sin da domani di dare subito un'impronta al nostro campionato perché domani non dimentichiamo che troviamo una squadra che sa giocare al calcio se è una squadra che sicuramente darà fastidio però sono convinto che i ragazzi per come stanno lavorando in questi due mesi sapranno affrontare questa sfida la sfida di domani e la sfida di tutto questo campionato Udi News Minister andiamo sul piano prettamente tattico cioè tu lavorerai di default col modello della prima squadra a livello di impianto di gioco oppure sarai libero di poter utilizzare anche altri sistemi il problema di default c'è quello di partenza no su questo non ci sono stati dei la società mi lascia lavorare liberamente su questi aspetti è certo che la condivisione insieme allo staff della prima squadra va oltre al sistema di gioco ecco quindi magari ci si confronto sui principi di gioco che che fanno sì che una squadra possa rendere possa essere prestazionale sia come collettivo che come singolo però fortunatamente ho trovato un ambiente che non si soffermo su un sistema di gioco ecco quindi questo è un aspetto positivo anche la condivisione insieme allo staff tecnico della prima squadra è una cosa che sicuramente fa crescere me fa crescere il mio gruppo di lavoro staff tecnico che è composto da persone professionalmente in gambe preparate e soprattutto fa crescere i ragazzi se non ci sono altre domande un'ultima considerazione da parte mia per Angelo Trevisan ricordiamo vista anche la presenza di Elisa che è una delle nostre modelle l'attività che l'udinese fa quotidianamente anche nel settore giovanile e femminile perché la società ci tiene tanto ha investito e continua a investire tanto con ottimi risultati perché i numeri sono davvero importanti Angelo certamente il calcio femminile ha avuto un'escalencia importantissima in questo ultimo anno io vedo ogni giorno ragazze quest'anno abbiamo non voglio dire una cifra sbagliata ma mi sembra intorno a più di 100 ragazze iscritte e non abbiamo iscritto più nessuno perché non c'era più posto tra parentesi perciò il calcio femminile credo che fra un po' di anni non dico che arriverà alla pari del calcio maschile ma sarà seguito da migliaia di persone perché è uno sport in via di evoluzione grazie grazie mille allora al responsabile del settore Giovanni d'Angelo Trevisan a mister Filippo Cristanti in bocca al lupo per l'Unesia Città e ai domani e ai nostri ragazzi Edo, Elisa e Francesco che hanno fatto da modelli e naturalmente ai nostri sponsor Dinamica Amico e Goccia di Carnia grazie a voi